buonasera e buon tennis a tutti ancora è il mercoledì del tornei di alle e di del queen's e prima di dirvi i risultati ancora una volta l'invito a iscrivervi a questo canale e a lasciare tanti tanti like al video cos'è successo avevamo un italiano fabio funini che direi ha perso abbastanza onorevolmente dai contro contro mari cilic a pezzo 6 4 6 4 7 6 scusate 6 3 7 6 leggero rimpianto perché fognini hanno andato 4 a 1 nel nel secondo set però insomma su questa superficie onestamente cilic nonostante l'età nonostante le poche partite giocate ma su questa superficie è la superficie probabilmente preferita di cilic che è un gran servitore e la superficie meno favorevole a fabio fognini proprio storicamente quindi una sconfitta tutto sommato che ci sta per il resto poche sorprese poche sorprese la deminaura battuto milman in due set per 61 63 norri ha battuto karatsev in quella che era una partita abbastanza equilibrata stupisce un po il punteggio 75 62 per il britannico è insomma un po pesante come sconfitta per il britannico mentre tra per il giustiziere di pugni di sinner supera ancora una volta in due tie break supera pubblic in due tie break ancora una volta a due table da vince due tie break per quanto riguarda alle nel torneo tedesco abbiamo l'eliminazione di federer per mano di oger alassim io ve l'avevo detto federer rischiava contro contro questo giocatore perché insomma alassim aveva fatto finale a stoccarda e quindi l'erba l'aveva diciamo brucata un po di più di federer che viene che veniva dall'olanga rossa tra l'altro con la polemiche del ritiro di fognini comunque ecco insomma brutta 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 sconfitta per federer che se puntava se punta tutto nello slam londinese insomma perdere sull'erba dalla sim non non è non è un buon viatico non è un buon viatico con shiber abbattuto muet in 276 476 rub le va superato thompson con un doppio 64 giron abbattuto struffa risultato a sorpresa per 67 63 64 questo è un po il quadro nel femminile la giorgia ha perso in 37 dalla vecchia giorgia aveva vinto il primo set e poi ha giocando anche bene poi ha deciso di tornare giorgi e di fatto non ce n'è stata più la vecchia poi ha vinto abbastanza agevolmente per quanto riguarda i pronostici di domani apriamo con alle abbiamo nishikori corda partita secondo partita per i boom makers e anche secondo me a scelta harris favorito contro l'acco ma non c'è quota 0 per favorito contro un ber ma non c'è quota basila svili e leader net sono a scelta io qua prenderei basila basila svili mentre per quanto riguarda vado veloce perché tra poco c'è l'italia quindi il video lo facciamo lo facciamo un po più breve mannarinò contro ivans favorito favorito netto ivans ma mannarinò è uno che sull'erba ci sa giocare e ivans a 1 e 44 secondo me è una quota un po troppo bassa berrettini parte favorito con marri ci sta perché marri è insomma tra infortuni e tutto però è un giocatore pericoloso per berrettini speriamo che berretta ripeta non tanto la prestazione con travaglia quanto la prestazione con gioco vici a parigi sciapovalov favorito con lopez e qui i boom makers mi trovano d'accordo tiafo favorito contro il ci qua avrei qualcosa da dire perché tre ci è uno che ha dimostrato sull'erba anche contro sonico di saperci giocare non lo vedo battuto in partenza nei confronti di tiafo con questo è tutto io vi saluto vi invito di nuovo a mettere un like al video e a iscrivervi a questo canale da italiano e da sportivo italiano un grosso in bocca al lupo alla nostra nazionale che tra pochi minuti giocherà con la svizzera la seconda partita del campionato europeo campionato europeo di cui ci occuperemo dagli ottavi di finale perché onestamente occuparsi di una fase dove su 24 ne passa 16 è un po è un po difficile nel senso che insomma secondo me l'europeo a 24 è è un europeo troppo troppo grosso nel senso che 16 squadre sarebbero state probabilmente la formula migliore per l'europeo comunque detto questo auguri alla nostra nazionale perché quando si parla di italia si parla di italia in tutti gli sport e quindi non solo nel tennis nel mio nel mio caso ma dovrebbe essere anche nel solo del del calcio in altri casi e quindi in bocca al lupo alla nazionale e noi ci vediamo domani per il commento della partita di berrettini a domani